Sai cosa c'è dietro una bottiglia di vino? Ti piacerebbe partecipare alla creazione di un nuovo vino? Se la risposta è sì, guarda tutto il video perché è una sorpresa spettacolare per te! Ciao, sono Irina di Bricoli Cucù. Come ben sai mi piace condividere ogni aspetto del mio lavoro tramite i nostri canali social con video, dirette, post e le fantastiche storie che vi condivido quotidianamente. Proprio per questo motivo ho deciso di dar vita a un progetto davvero, davvero unico per farti entrare nella storia del Bricoli del Cucù. In che modo nasce così l'idea del primo corso a livello teorico e pratico sia in vigna che poi nelle nostre sale degustazione? Avrai così la possibilità di entrare a far parte del mondo del Bricoli del Cucù e capire in modo consapevolmente come bere e in modo responsabile anche come bere i nostri vini e non. Quindi i posti sono limitati, questo per garantire una maggior cura dei dettagli e quindi non ti resta che proseguire col video per i maggiori dettagli. Ed eccomi qui nella nuova linea del Nebbiolo, sì, perché non abbiamo ancora un'etichetta di questa tipologia. Vedrai quindi nascere il primo Nebbiolo del Bricoli del Cucù, per questo che entrare nella storia. Potrai quindi selezionare il filare che vuoi, partecipare attivamente alle lezioni, quindi dalla potatura alla vendemmia, la concimazione alla gliomera petrolatale, e quindi non devi venire per questo passaggio. Poi vabbè, se si sbaglia la potatura non avrai le bottiglie di Nebbiolo, perché è il rischio del mestiere. Potrai quindi partecipare, vivere un'esperienza unica a contatto con la natura, seguendo tutti i nostri e quasi, i nostri segreti, e vedrai nascere man mano un vino, il primo vino del Nebbiolo del Bricoli del Cucù. Pensa che spettacolo! Sei pronto? Allora, ricapitolando, tre lezioni in vigna, quindi avrai la possibilità di eseguire personalmente i lavori che ti spiegheremo. Seguiranno anche tre degustazioni molto speciali qua all'interno delle nostre sale degustazione. Quindi, alla fine di questo corso, avrai un'infarinatura e un approfondimento a 360 gradi di questo meraviglioso mondo del vino. Quindi conoscerai a fondo queste tematiche e sarai tu l'amico che assaggerà per primo ristorante il vino. Quindi cosa aspetti? I posti sono limitati. Per tutti i dettagli, mi iscrivi oppure guarda il nostro sito, metterò anche la descrizione completa e non ti resta che contattarmi. Perché? Ho avuto un'idea. E scelgo te!